il primo l'ho giocato tipo quattro anni fa non l'ho completato ovviamente però penso di calchi lo stesso genere 2 potrebbe essere molto divertente immagino non ci sia l'italiano e vabbè davo per scontato la maschè crediamo forse è meglio al massimo normale ok normal per uno ritorno a scuola mi sono episodi io tutto nella norma ok oh no ma lei è fortissima lo sguardo proprio d'assassina basta no come stai hai ragione c'è qualcosa che voglio vedere oggi dove andiamo? qualcosa che succedeva l'estrata in Yondu high school ho sentito che un'estrata ultimamente era il primo che mi piace venite in Yondu high school dopo lavoro guardate, hai già già studiato? ho scoperto cosa succedeva se non vuoi venire, ok ti faccio scusare hei, Zhang Sujin solo lo mettere sul mio tab guardate, non ci sono guardate, devi impostare questo schermo eh, chiamare il tuo team andate guardate, non ci sono guardate 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 Forse non è giù qua. Sinistro o destra la chat? Stop! Sei la persona che voleva essere qui? Huh? Gli, mi ha scoperto! Chang Sung Tae! Ho pensato che non eravamo arrivati. Tu eravamo preoccupato di me, no? Non è così. Sì. Non preoccuparti, Chang Sung Tae. C'è qualcosa che succede a qui. Credo che c'era un foglio. Che cosa di terra? Ho sentito che ci sono chiesti che qualcuno ha scoperto questo bambino. Hai pensato che sarebbe come un foglio? Kim Sung Oh era una persona per noi. Un'altra di noi ha amato la caratteristica, e un'altra ha amato la morte. Apri la porta, posso sentire qui in là! Ehi, rinchi! Come rinchi? Ah, non iniziamo con sto rinchi? Ah, così? Me lo parte così? Penso che l'1 l'abbiate visto più o meno tutti di questo gioco. Ma? Che cosa sta facendo? Ma cosa c'è? Torcia? Sono robe? It's impossible to go deeper down to stand because this is the instruction con... Ecco l'assoluto, ok. Fortunatamente... E posso arrivare dall'altro lato. Ok. Devo usare la pompa idraulica per... Per il nuovo... Ok. Cos'è? Evidence numero 3? Ma è fighissimo. Guardate il suono, senti il suono. Posso passare da qua? No. Però là c'è della roba. Devo fare il giro. Se lo so la pompa posso sollevare tutto. Di là c'è la morte. Ho capito. No, vabbè. Basta. Ci perdiamo qua. Ciao, il re. Buonasera. Come stai? Io qua mi perdo. Quando un gioco mi inizia con tutta la mappa così, io mi perdo. Cos'è? Investi dietro l'auditorio. Luce. Nelle due si corre. Certifico me la destra chat perché? Non ti piaceva? Se no, la posso anche levare. È che tanto non c'è la camera, non serve. Mi ha fastidio la levo proprio. Dai, non c'è il tocco. Ok, ok. L'ho sposto, ragazzi. Lo chiedevo per conferma se era una mia sensation. Nettivodio. Ora va a trovarla di nuovo, la barba. Dove sei? Eccola. Ciao, Simo. Se volete tipo così. Aspettate. Perché a volte questo coso mi farà bestemmiare. Ok. La metto così? Bene. Vai. Importante. Tanto non credo ci sia vita o cosa da evidenziare. è importante che si capiscano i documenti, le cose varie. Tipo se io vado a leggere qui, ecco. Diciamo che sarebbe meglio levarla. Meglio così. Leva. Levata. E 10. Spagna. Spagna. Oggi mi cagli un po'. Ragazzi, sto facendo una petizione per dire a Stefania di cagarmi un'intanto. Ma posso raccogliere sta roba? Scusa. Non vado da nessuna parte, però. Run and crunch. Ok. Sì, ho già preso tutto. Ma non iniziamo, eh. Tanto so che ora deve arrivare a me un chiez. Comunque la grafica è stupenda. La grafica è stupenda. Questa sarà chiusa. Porta chiusa. Ma va, te ne ha affanculo. Ok. You can turn the flash line on and off with a... Sì, ma ora mi viene dubbio. C'è una cosa là sopra, aspettate. Oh, sono dall'altro lato? Chi sei tu? Ah. Proprio sparisce. Un'altra evidence. Come ci vado là? Mi serve la chiave. Va bene. Il volume è tutto a posto e basso. Sistemiamo tutto. Ora... Mi resegna le porte chiuse? No. Peccato. Questa non si apre. Che è successo qua? Eh vabbè. Abbiamo chiavi. Glielo devi far dire a Lucrezia quella roba, Manu. Dopo ne riparliamo. No? Documento. È found a hexagon-shaped wooden plate. Ok. Ok, se l'ha diviso in quattro pezzi. Ah, il fantasma l'abbiamo visto sopra. Passa un po' il mic. È altissimo. Meglio così. Cosa è bellissimo? Ma c'è il bot di Lucrezia? Ciao, direi. Sei proprio un culo. Il bot di Lucrezia c'è da un paio di giorni. Non l'avete usato, forse. Se devo abbassare dell'altro, basta che me lo dite. Oh, la prima è avviance. No? Sì, vabbè, dai. Sì. Sì, vabbè, dai. Mi servivano quei cosi. Guarda dove... E io le ho trovate tutte. Una C al contrario con una K. C a C a C a C a C a P a C a P. No. Ma non credo. Questo da questo. Vabbè, vediamo prima chi è c'è là. Questa è un po' di più. Questa è un po' di più. Signorina. Qua c'è? Waterplate Fragment. Ok. Ora torniamo alle prove Raccogliamo tutti i simboli Dai Facile Qua ce n'era un'altra Numero 4 Una casetta Con una T e una C Casetta con la T e la C Casetta, casetta, casetta Avevo dovuto segnarmele prima Peccato Non immaginavo fossero parte di un enigma Oggi che carico Manu Tutto a posto Oggi si deve vedere Vincenzo Allora Qua c'è un'altra evidenza Mi pare Eccola una E l'altra di là Una, due Una T con tre 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 Uffa però Faccio così perché se no me le dimentico E non ho voglia di scriverle T con tre T con tre Ecco Vabbè Usami Per forza Oh Capirò tutto E' un'altra di là E' un'altra di là Non si muove, tutto buco Aspetta Non è possibile, io posso giocare Posso giocare in qualche modo a un gioco Senza bugarlo Non è giusta sta cosa Che abbiamo qua? Salute Snake Ah Abbiamo la chiave di qua Avevo visto qualcosa Questo serve a qualcosa Eh, toccherebbe farlo Ma? Una PC? Discoveggio tutta PC PC091 si è disagiato Mi fate un Soagri? No, non lo facciamo Basta il Soagri Morente La paga tra noi si è appicci Cagare il cazzo Comunque grazie A un buon momento E' inchiuso Marci Bentornata tra noi disagiati Finchia, sono passati già tre mesi Non è possibile E' passato così tanto tempo Mi sto rincoglionendo Oh, vabbè Brava Stefania ha guadagnato una cavalcata Ok Ok Queste torce ovunque Abbiamo un pezzo E un documento Ok, la storia di come è morta la ragazzina È questa Comunque Comunque Stai combinando PC È finito di bere Ok, abbiamo due pezzi Andiamo a trovare in modo Per arrivare da quel lato No No Non si fa così Comunque PC È arrivata Se si abbata Se è andata Io puro Beh, beata te Se è riuscito Io dovrei smettere completamente di fumare Il mio benessere Ci sto provando Ma è tosta E questo? Mi serve una chiave Per questa porta Questa si apre Questa si apre Qua non c'è la chiave Mi la chiavi Ma non c'è la chiave Vabbè Dall'altro lato Ci avrei comunque la chiave Qui non c'è niente Mi pare Perchè vuoi provare da qui Con questo Devo superare la barriera Usando Il plate Dell'acqua Che sarebbe quello Qua Qua Ah sì Forse si apre Questa Col cazzo Che si apre Dobbiamo capire Quella enigma Poco da fa E stanno Non ci abbiano fatto Trovare nient'altro Qui a parte Quel pezzo Beh prendevi Oh Ma guardate La chiave Del corridoio Di sinistra Meno evidente Di questa Non poteva esserci Ok Andiamo di qua Ho visto qualcosa In fondo A questi fantasmi Così simpatici Vabbè Mi hanno dato sicuramente La chiave Dell'altro lato E la chiave Della porta Dall'altro lato Di questa Dall'altro lato Apriamo Apriamo quel corridoio Dobbiamo attivare La pompa Per spingere Via Perché ci Verremo bloccati Al 90% Se non ci parlavano Di quella pompa Basta scommettere Teo snake Ok Vediamo Che cazzo Diverso è Ma Ah è caduta la scala Sono un genio Avevo già previsto Tutto Ora accendiamo Questo Ma Perché Va bene Ciao Giulia Amore mio Mi stai Ma Porco 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 Mi stai prendendo Per il culo Oh 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 Nan Sojin Questo nome L'ho già sentito Ok Che quando sei seguito Da qualcuno Cisato Non ti fanno curare Invece Se Questa è una zona safe Senza niente Che gioco è White day 2 Per farti vedere Grazie del follow A Il Mox E White day 2 E' uscito Da poco Infatti E' solo Inglese Oh Eh rispondi Ma è questo No Non mi fa rispondere È davvero questo Ma non Item Adesso ci posso mettere Qua Ok Credo che ora Inizia il vero gioco Ah io sono interessato A quasi tutti i giochi Soprattutto Survival Horror Orror Allora Vediamo Ma si insomma Aspè Posso riabituarmi Le comande Quindi ovviamente Non si torna là Ci fa Aspè Tutto Tutto Oh Senor Guarda quanto grande 4F Sono 4 piani Scolastici Io ho giocato Anzi Ho chicchiato Il primo Adesso Avevo la key Del secondo E tocca farlo Per forza Non Garico La scusa Mi farò anche Il primo Fammi capire Giulia Te dai Amore mio Giunque Basta Basta La nostra reazione Sta finendo Ma non è vero Sì Lo recupererò Sicuramente Ci ho giocato Anni e anni fa Ok Ok Abbiamo Tre siti Tool Usa Tutto Ok C'è uno strumento di taglio Questa è chiusa Questa è chiusa Peccato Che non mi segna Le cose Chiusa My dream It's in the stand Order Covered in tears of blood Dopo Disco Le cose Mi piace Che sto sulla cam Spent In questo momento Non posso scendermi Troppo La gente Che va E vieni Comunque Se ti interessa I mods Ci sono i social Entrai su telegram Discord Poi io streamo anche E faccio video Contenuti su youtube E anche tiktok Ricarico dei shorts Però di altro genere Interessa C'è tutto Un testo nativo social Trovi tutti i link Live di solito Ne faccio Quanta settimana Il lunedì Mercoledì Venerdì Più un extra E sabato La domenica E per adesso L'orario è variabile Siccome è estate Non dico Se è pomeriggio O sera Tendenzialmente Col caldo Preferisco Farlo della sera Thank you ste Cos Cos Cosa Seb Vuoi dirmi Che non sei più Disagiato Stavo spiegando Quando faccio Le live Cos'è Ghost photo No vabbè Ok se facciamo Una foto A un fantasma Lo stoppiamo Ah C'è un schermo Xbox Si c'è con lei Come No Ah Sì Aggiungete Ah mia Ti spacco Su te Chiedendo giù E' uscito Questo Impossibile Inviare Il messaggio In che senso In che senso Avete scritto Qualcosa di strano Ma da pc Ok Qua c'è una combinazione Ok Photography club Ma solo da me O da pertutto Walkman Una di nove Vabbè Se io non volessi Oh Chi sei Carina questa ragazza C'è copulata No C'è del desinco Nelle espressioni Nelle espressioni O il mio Siamo John Niente Luisottone La seguirà Come vi sta sembrando Il gioco Cioè Ancora non è partito Però con Questa cosa Della cam Mi sta dando Delle vibes Di un altro gioco Come cavolo Si chiama Molto famoso Che hanno fatto Anche Dei Remake Adesso Fatal frame Ecco I nomi In altro mondo Giulia si è persa Non si risponderà mai Non è normale Sta cosa Ma Con una parola Solo parole Sono Non c'è Emoto Cosa Perché mi viene Dubbia Se è magari Qualche cosa Di bloccato Un documento Verba verde Se non erro Questo gioco Puoi trovare Oggetti Anche I cassetti Che so Farsoletti Maderno Ho dei feels Del bidello Che ci insegue Raga Nel primo C'è il bidello E ci insegue Ah È tutto rosso Ah Salute Serve una chiave Oh Guarda 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 Dove sta Piccata Cos'è Il diario Il diario Del presidente Del club Dei teatro Non deve stop Accordo con Il club Dell'occulto Il corpo Questo bicycle club Fatemi vedere È scritto club Della bicicletta Sì Rec club Bicycle club Forse un altro piano Vediamo se qua Machine home Allora A sto punto Per cui si è sopra Occult club È qui In sui Unisim room Troppo facile Sarebbe Sarebbe Sennò Eccolo È al terzo piano Bella Lidia Lidia Quanto tempo Sei tu Dove stai Oh 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 Questa Non è bella cosa Tutto bene Tutto bene A parte È caldissimo Che cazzo è Cazzo è quel coso Ma c'è la prima Sto Ma che cazzo era Vaffanculo Che è Vaffanculo Che è Mamma mia Perché non va Non funziona E cavalca Aspettate Scusami Fatemi vedere Una cosa C'è Stimile Elements Fuco Volete vedere Che non funziona Nemmeno Il bot Perché non Prende messaggi Secondo me Non va in mano Il coso Più la riprovo A cavalcare O qualcuno Ehi Vaffanculo Sempre Comunque Comunque Lidia È bello Vedere Che Tornate Ripassate Quando riuscite Ormai Stai crescendo Anche tu Lidia Puoi essere Cavalcata No Se vuoi puoi Cavalcare La gente Adesso Nemmeno Cioè Vedete Perché non va Ma c'è uno spazio Forse State Sbagliando Ovviamente La mia vita È solo studio No Dai Allora Bisogna colpirti Qualcuno Cavalca E colpisca Lidia La camera Adesso Non la posso Accendere Perché non sono Solo In camera Purtroppo Da fastidio L'hanno rimandata Non è la fine Del mondo Lidia Ora Odilo Io Sono stato Bocciato due volte Ma non è finita La mia vita Poi gli ho fatto Vedere tanto Di culo E Ho superato Tutto E sono andato Pure all'università Quindi Non sono Quelle Le cose Che Che ci stoppano Allora Facciamo un salvataggio Rapido Cosa Sì esiste L'università Anche per Grave Saponetta Aia C'è niente No Un déjà vu Di questi Cessi Cavolo Guardate Che belli Gabinetti Chi cazzo Ha cagato Chi cazzo Ha cagato Raga Adesso pure L'acqua Ottimo Qualcuno Ha cagato Non ti preoccupare Non ti preoccupare Lì da più Iscirai Anzi Questa sera Mi beccate su discola Anche queste sere Magari Se vogliamo fare qualcosa Vedersi qualcosa Di post Cos'è appena successo Oh Oh No li lascia aperti Ah perché Dopo un tot Si chiudono Vaffanculo Pensavo fosse tipo Un fantasma Invece Si chiudono Da sole Perché non me l'apre Questa Si è un horror Io ho giocato Il primo Ma che è successo A ste piante Gli sono cresciuti Gli sgrotoli Sopra Faffanculo Lidia Ecco Questi servono Per cambiare piano Di là Non posso andare Ci costringono Andare a fare Il primo fantasma Mi sa Quindi per forza Sopra le scale Noi siamo al secondo piano Dobbiamo salire al terzo E andare alla Bicycle club Quando vuoi Facciamo le cinque Tutte merde Una merda Una e una merda L'altra Quando dico io No no C'è Bidonato Ti odio La più bidona Di tutte È Stefania Che mi ha bidonato Sempre Sì L'ho già visto Non ce lo fa Leone Sicuramente Voglia Torna Max Aspettate Devo tossire Se no Cavalca bidona È un due bidone Sì Una che l'altra Sono due bidone Giulia sa E non dice niente Sempre usato Forse è questo Sto insieme a loro Che mi piace Essere trattato di cacca E a loro piace avere Qualcuno da trattare di cacca Vogliono che io Servi Mentre gioca Io mi continuo Codeveronica Ma lo stai facendo già Che cosa Doveva essere Sta cosa Che continuo Codeveronica È un invito Finiamo la LAN Fammi capire È una venduta Giù Ah è vero che l'avevi Di persa Che cosa abbiamo Abbiamo solo sta camera Dove posso andare Da nessuna parte Che c'è Siamo liberi Che non posso andare Oh E non vuole giocare Con me Mi odio Ah Che gioco Che cazzo Di chiave Option Toolbox Opinion Toolbox E dove sta sto Opinion Toolbox Ma ora sono bloccate Raga Ma Ma sono un altro piano Non era chiusa Questa Niente Eh sì Tanto non ci gioca Con me Giuda Tanto gli posso Proporre quello che vuole Poi Lei se gli può essere Di giocare Per cazzi suoi Poi mi viene E me lo dice Vedi che ho fatto Questo In qualche Che l'avevo proposto Già Giuda Di giocarlo Non mi ha Cagato Sai quanti Io ne ho proposto Che stream Streamava Quando aveva Tempo Giocare Insieme a Green Non è MR Su 14 TV Asked Me Potresti imitare Con un tono Arrabbiato Grey Mentre stream Un gioco Horror Come Casa Malefica 2 O il male Dentro Giustizia Per Scheller Oh certo Clear Stroot Grey Stai zitto E obbediscimi Ma cos'è Questo schifo Ancora Fantasmi Non ne posso Più Ma Chi è che ha Lasciato Quella porta Aperta Ug dai Muoviti Che ci stanno Inseguendo No 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 Sono stanco Di questi Jump scare Del cavolo Basta Voglio tornare Ai miei gatti Mi gatti Ti sei spaventato Abbastanza Ah quella È la mia Imitazione Non credo Comunque Grazie Giù Non ti riverti A giocare Con me Alla Perché Queste qua Vai Diverti Ti stai Mi cagli E questo è sempre la morale Mia Io faccio tutto E poi vengo trattato Di merda Vediamo che c'è qua Il diario di Stefania Oh Ok Comunque Si è la Lucrezia Si Si Io mi tratta male Come Scheller Perché Sono entrambe Innamorate di me Ma non Non lo sanno Ammetterlo Questa è la verità Infatti Fanno finta Di avere una relazione Tra loro due Quando Evidentemente Con me Anche Una cosa A te Ma la vogliono Renderla due Perché Non vogliono Ammettere I loro sentimenti Troppo è così Non ridere Seb Ora ti farò Una foto Quindi un toolbox E da questo Ma va che ne ha Fa culo Quindi essendo un altro piano Questo a quanto pare Potrebbe esserci qualcosa Nel cesso Buongiorno Porta uno libero Due libero Porta tre Ansia mentale Sentite anche voi? Va bene C'è una canzoncina Ha fischiato sì Non voglio nemmeno sapere Che sta facendo qua Un cazzo Ma allora Ma lo fa apposta Ma lo fa apposta Ma vaffanculo Sì lo specchio L'ha già rotto Ma cagare Chiezz Non credo Che mi faccia La scorreggia Il fantasma Comunque Tutto chiuso Si sale Però si potrebbe anche scendere Abbiamo la chiave Per un toolbox Magari Sta qua Eccolo 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 Youngin students Miss A Friends Miss B And terrified Miss B She was Ever since Miss Azen School For Temp Anson Cloud Ok 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 Credo sia il caso Di andarmene Allora Allora L'unica Cos'è Cos'è Ho fatto una lettera Che stato Cazzo Non era il gioco E l'avate voi Bastardi Di merda Strange cabinet Che cazzo Ho detto Tocca portare La mia Ti scorreggio Manu Ma Va Te ne Affan Cula Ma Che Fate tutti A cagare Questo Cagare Cagare È da cagare L'altro Di nuovo A cagare Ragioniamo Ci sono Ci sono dei simboli Se ci fosse Uno Vi avrebbe Già Mandati Tutti Affanculo Lo sapete Vero C'è un cerchio C'è un cerchio Con un punto Il simbolo Di berserk Una banana Una banana Anziché spaventarmi Potevate colpire In giro C'è sia Seb Che Lidia Colpite Loro E non Spaventatemi Con un jump Schere Ecco Nei documenti Che qualcosa Che accenna Ai simboli Oh Coglioni Così Grandi No Ma Raga Posso muovere la luce Oh Questa cosa è figlia Non ci credo Ah ok Pensavo di aver ribuggato Il gioco Devo già per bestemmiare Dobbiamo cercare Sti simboli Chi c'è Cats90 Asked me Stai mentendo Lo sai che il nostro Passatempo Preferito Tormentarti E farti infartare Ah sì Lo so bene Ma qualcuno Deve pur mantenere L'ordine qui Comunque Mi sa Che dovrò fare una visita Alla mia scorta di gatti Per calmarmi Dopo tutti questi scherzi Ma Gray Vedi Di Chiudere Quelle Porte Prima che un altro fantasma Decida Di Unirsi Alla festa E ricordati Il triunvirato Regna Mi avete rotto anche Uni Siamo vicini A una rottura Di uni Questo E ci potrebbe essere Della roba Mi sto triggerando Comunque A sentire Sbattere Le robe Piatelo Piatelo Dove abbiamo trovato Il documento E mi stai dicendo Che anche Loro Tengono Che sono Stufo Condizionatori Ci tocca Ciao 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 Chiara Ciao Ci sono i fantasmi Ah Hanno fatto La scacchiera Con gli Alunni Ok MR14 Dice TV Asked Me Puoi provare A spaventare Gray Urlando Per circa Dieci Secondi Ah I Se Gray Devi assolutamente Chiudere Quelle porte Non vorrei Mica Che un altro Fantasma Si unisca A noi Vero E ora Muoviti Che non abbiamo Tutto il giorno Ma Stefania Tu non sei Un fantasma Tu sei Bellissima Chiara La più forte E potente Di tutto Il canale Chiara La sera Ci veniamo Insieme Cazzo E ricorda il triunvirato regna non c'è tempo per gli scatman quando i jumpscare ci stanno ci stanno inseguendo e poi non dimenticarti di dare da mangiare ai miei gatti ok non mi piace tutto scrivere e poi vi prego muni è crudele con me è diventata crudelissima qua è chiuso cazzo come la apro sta porta sto facendo una settimana di chiusura quindi stacchi alle 10 11 bene a caso vabbè lo sai anzi mi spiace questa settimana sono stato poco sul disco per la sera sì ci deve essere però qualcosa un simbolo eh la parte c'è un po' però mi sa 26 si è mesera che c'è devo di chi vuole entra allora questa roba non la deve fare porca mi sembra ormai pensi solo alla mia vita ci chiacchi solo quando la volite non sei degno di vincenzo ah l'orologio non l'ho portato dobbiamo guardare bene la cucina guardate se vedete un cock disegnato e chi lo sento da qua il rumore ora due coglioni per me va bene parleremo di più finalmente esco un po' è schifo la vita sociale ma solo tu le conosci ste serie penso yukio non mi pare sia diventata molto più volgare o sbaglio mi sono accesi i polmoni e gli ormoni al video ormai è diventata sbloccata e con pensieri illeciti io tra poco c'è non vado a te adesso aspetta una cucina chiara si 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 non c'è un cazzo qui dentro fantasmi inutili voglio entrare qua non c'ho la chiave queste cose sono inutili questo è inutile forse qua aspettate però non se va nulla niente oh puoi sgridare grey dice che non devo uscire perché è geloso però quando siamo solo io e lui non vuole cavalcarmi quindi è normale che cerco altre attenzioni in giustizia per mano ma certo mr 14 tv grey dice un po' che cavolo fai prima dici a mr 14 tv ci sentiamo stasera ti volevo uscire perché sei geloso e poi non vuoi nemmeno cavalcarli quando siete soli ma che razza di comportamento è questo se non ti svegli e non ti decidi a dare loro l'attenzione che meritano non lamentarti se cercano compagnie altrove ma giustizia per mr 14 tv subito ma scaler bot è rotto che poi ha capito che mano è mr 14 adesso ottenere quanto intelligente è scaler bot è collegato amatevi comunque ci sentiamo chi ha il caso dopo non visto la risposta di Lidia Lidia rispondi è cresciuta stai copulando Lidia aspetta prima di dire questa cosa hai 17 anni ora giusto? quindi puoi copulare lei diceva che sei diventata più sboccata e copulativa con pensieri illeciti sucacchiesse sempre potete far sucacchiesse ma dov'è Giulia? amore mio che stai facendo? stai perdendo? io comunque mi so perso pari vittoria si c'è